Fedele Bruno! Fedele Bruno a voi! Eccoci qua, grazie mille per la linea. Stiamo ricevendo come sempre un sacco di messaggi, gli stiamo scrivendo. Bruno qua sta disegnando, ci stiamo divertendo. Anche perché, come dicevamo prima, purtroppo, mi dispiace ragazzi, ma abbiamo queste clip un po' pallosette. Quindi dobbiamo cercare di divertirci in qualche modo, con macchinina e cose, e vari sollazzi. Eccoci qua. Ciao a tutti, un saluto da Fedele. Oh, ciao Cristian. Ciao. Come state? Ciao. Aspetta che sono un po'. Io sono basito sempre di più. Ma sono sempre più basito. Ciao. Siamo a The Gap. Aspetta che non ci sto tutti, non ho abbastanza mani. Fai un secondo. Scriveteci, 331-710-9436. A posto. E chiedo al maestro di mandare la nostra clip. Ones, come mai da queste parti? Ma lo sai che tra Ones ci si trova sempre in coppia. Ma come mai anche tu a teatro? Eh, io sono venuto a vedere The Gap, lo spettacolo di Cristelli e Botti. Beh, anch'io. Beh, guarda, questo è proprio il mio posto. Che coincidenza tra Coones. Godiamoci il Coones spettacolo. Mmm, che Coones. Oh, ben trovato, amico Boom Boom Botti. Ma chi dov'egna, Cristian? Perché continuo a chiamarmi Boom Boom Botti? Ma perché sei Boom Boom Splendido. Eh, ma Cristian, ti vedo spigoloso. Splendido. Ma Andrea, io ti vedo molto sottile. È perché sono cinese. Splendido. Bene, senza ulteriori indugi, né sotterfugi, né archibugi, come dei segugi. Chiamiamo qui sul palco la ledazione giornalistica. Camì, mando caso, sono finische. Interrompiamo la diretta per una notizia inframuscolare. Sì, sì, tal do me l'inframuscolo. No, 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 mi rifiuto. Chiamiamo qui sul palco quei due Coones di Federer e Bruno. Splendidi. E come sempre, un saluto da Federer. E un saluto da Bruno. E The Gap. Eliminiamo le distanze. Splendidi. Cristelli, bocchela. Lo spettacolo? Bello, bello. Mi è piaciuto. Splendido. Bravi, bravi. Splendidi, splendidi. Io gliel'avrò spiegato un milione di volte che sono tailandese, ma loro non l'hanno ancora capita. In realtà tu non sei cinese, ma sei un made in Corea, perché c'è Tarocco. Ecco, peggio ancora, ma scusa, eh, mangio. Siete picche normali. Allora, ragazzi, andiamo avanti perché il tempo stringe. È il birichino. Il tempo stringe, quindi andiamo in pubblicità, giusto? Sì. Sì, e poi torniamo ancora in diretta per l'ultima parte di The Gap. Adop. Really, really, really good.